Monsignor D'Angelo, le prime impressioni di questa diocesi, lei è arrivato davvero da pochissimo, ma che effetto fa anche lavorare, avere l'opportunità di lavorare in una città come l'Aquila, una città importante, un capoluogo di regione, che purtroppo però ancora porta le ferite del terremoto e poi i problemi della pandemia? Beh, sicuramente, prima impressione, un ambiente molto accogliente, molto disponibile, ho trovato le persone incontrate finora, veramente tanta disponibilità e questo mi fa molto piacere. Sto ancora ispezionando, diciamo così, il territorio, conoscendo le varie realtà, prendendo anche proprio contatto con i vari luoghi, i vari posti, però ecco mi sento, diciamo, sereno, tranquillo e anche desideroso di poter dare il mio contributo a quello che è questa realtà, questo territorio, soprattutto come lei ha ricordato, ferito da tante tragedie, da partire dal terremoto, ma non solo, ultimamente appunto dal Covid, quindi essere innanzitutto vicino nella preghiera sicuramente, ma anche proprio fattivamente in quelle che sono le mie possibilità, la mia vicinanza di cristiano, di pastore, ecco, per accompagnare in un cammino di rinascita, ecco, questa comunità, che credo si può fare tranquillamente, non bisogna mai demoralizzarsi, mai scoraggiarsi, ma in quello che sono le esigenze, le emergenze, si può sicuramente riuscire a dare qualcosa di nuovo, ecco, Papa Francesco ci stimola sempre che da una crisi o si esce peggiori o migliori, io penso che possiamo uscirne migliori. La sua nomina a vescovo, l'Aquila è un territorio vasto, ha moltissime parrocchie, insomma, cambia un po' la dimensione da sacerdote a vescovo? Sicuramente, sicuramente, io fino a qualche mese fa, diciamo, ero in un territorio abbastanza ristretto, molto ristretto che era il luogo del seminario, adesso sicuramente dovrò imparare a avere uno sguardo un po' più ampio per le varie diverse realtà che ci sono, le varie parrocchie, e quindi questo mi inviterà soprattutto appunto a conoscere andando, ecco, soprattutto questo è un po' il desiderio di andare e di incontrare le realtà, in primo luogo i sacerdoti e poi tutto quello che è la comunità cristiana è qui all'Aquila. Una ricostruzione sociale che è necessaria assolutamente, la Chiesa in questo può fare tanto, anche una ricostruzione materiale, mancano chiese all'appello, lei ancora, insomma, deve rendersi conto e toccare con mano della situazione, però sono aspetti, diciamo, che andranno di pari passo? Beh, sicuramente, sì, adesso ancora conosco la situazione da questo punto di vista, ma è chiaro che non basta solo la ricostruzione materiale, c'è bisogno anche proprio della ricostruzione della comunità, cioè di una comunità che ritorni a vivere, soprattutto un aspetto relazionale di comunione, di incontro e certamente anche questo Covid non ha favorito questo, già il processo dopo un sisma è difficile da questo punto di vista di costruire una comunità, le relazioni e il Covid ovviamente ha contribuito a disgregare ancora di più, o meglio, all'allontanare, ecco, a creare distanze. Allora, sicuramente a quello che può essere la ricostruzione di pietra bisogna ricostruire la relazione, ecco, i cuori che si incontrano, le persone che si incontrano e che veramente possa esserci un rapporto di amicizia sereno e di fraternità. Allora, ecco.